Calcio mercato 2012 dopo il calcio giocato, il calcio parlato, il calcio mercato è il calcio scommesso, non può mancare anche per il 2012 è successo di tutto, operazione new last bet ma quale last? Questa è soltanto the point of the iceberg la punta dell'iceberg di quello che è, sono il calcio scommesso a te chi te lo dice? Me lo sento, me lo sento perché qui come si alza il coperchio subito poi vabbè dai, poi vi puniamo un po' poi però copriamo perché se no qua chiudiamo tutto, poi in crisi pure il calcio allora è la fine e che dire, arrestati i mauri della Lazio indagata soprattutto la Lazio perché è coinvolta in diverse partite ma non solo, per esempio abbiamo Lazio-Geno, Alecce-Lazio, Novara-Siena abbiamo Brescia-Lecce, Palermo-Bari, 5 partite di Serie A ragazzi Criscito, escluso dai convocati per gli Euro 2012 stava a coverciato, uno dei carabinieri senti, vieni con noi perché ti dobbiamo parlare un attimo vabbè, l'hanno un po', l'hanno perquisito dice poi tu non vai perquisire lì boh, chissà lì che cosa speravano di fare non lo so, comunque gli è stata comunicata forse qualche cosa e arrestati invece proprio effettivamente qui dice Fermari, arrestati Milanetto e Mauro della Lazio Stefano Magra, arrestato, capitano della Lazio e indagato anche Antonio Conte e sì, il neo vincitore del titolo italiano detto Scudetto, del campionato di calcio 2011-2012 indagato per calcio scommesse riciccia fuori, bello, ricicciare riciccia fuori il nome, rispunta fuori il nome di Beppe Signori non per un gol che ha fatto, ricordo uno dei migliori uno dei più grandi marcatori della Serie A tra i primi dieci, marcatori della Serie A di tutti i tempi e che è stato ritirato fuori per riciclaggio ci sono indagati tante persone, tante la ventina, la 19, non lo so quante effettivamente questo è quanto al prossimo aggiornamento sulle news del calcio mercato 2012 paparapapara paparapapara questo che è in frazione del copyright